non c'è più tempo e Mussolini a mettere ai voti l'ordine del giorno grandi senza neppure immaginare quale peso avrà quel voto è il momento della verità sono le due quaranta di una notte romana inconsapevole si vota per appello nominale risultato 19 sì all'ordine del giorno grandi 7 no e un astenuto il presidente del senato suardo silenzio Mussolini si sente addosso lo sguardo di tutti il segretario del partito scorza sta per lanciare il saluto al duce ma lui lo ferma con un gesto della mano le ultime parole la seduta è tolta